Buona giornata, benvenuti, bentrovati, siamo all'ultima edizione della settimana, ci si avvicina quindi al weekend, sarà un weekend in cui cambieremo l'ora, quindi anche le partite, le gare di calcio saranno anticipate rispetto agli orari normali, almeno sui campi della regione per parlare appunto di campionati regionali. Vi ricordo che questa è www.venetoglobe.com, che è la nostra web tv, la vostra web tv che seleziona le interviste, le inchieste, i reportage, le trovate naturalmente poi disponibili in modalità on demand. Il tutto invece sul digitale terrestre, ogni sera alle 19.40, in seconda serata e nella primissima parte della mattinata su Cafetti V24, l'emittente del Nord Italia, che per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia, captate e ricevete sul canale 95. Andiamo a cominciare con la notizia che avevamo aperto, con cui avevamo aperto ieri, la vogliamo riproporre perché è la morte di Marieke Verwut, che è morta ieri per eutanasia, aveva 40 anni e la foto la ritrae appunto ad Oderzo, dove aveva partecipato alla gara all'internazionale, suscitando tanto, tanto affetto e naturalmente dimostrando la campionessa che era. L'aveva annunciato ai giochi di Rio de Janeiro nel 2016, diceva mi sto ancora godendo ogni piccolo momento, quando avrò giorni più brutti che buoni, allora ho già i miei documenti di eutanasia e il tempo, ha detto, non era ancora arrivato, invece è arrivato l'altro giorno. Cambiamo argomento, domenica Formula 1, vedete Hamilton si corre sul circuito del Mexico, tra l'altro Hamilton che, visto che non ha grandi problemi con questo campionato del mondo, si sta dedicando anche alla box, che è stato uno dei suoi primi amori. Hamilton irridato, se porterà il vantaggio a 78 punti. Appuntamento per quanto riguarda il moto mondiale, si corre sul circuito di Fierbe Island, Gran Premio d'Australia, è la diciassettesima tappa su diciannove. Vi ricordo che nelle prime prove registrate, primo Vinales, secondo Dovizioso, terzo Khrushchev, il nostro Valentino Rossi al settimo posto. Intanto ieri a Milano è stato presentato il Giro d'Italia, è la centotresima edizione, quando si presenta il Giro d'Italia, insomma, già si pensa inevitabilmente a maggio, ai mesi estivi, anche se deve ancora arrivare Natale e passare l'inverno. Però, insomma, ci riempiamo intanto di gioia e di colori. Centotresima edizione, vedete le immagini che sono state registrate ieri a Milano, come tutti saprete, oramai penso, si partirà dall'Ungheria, perché la cosa diversa in questi ultimi anni di Giri d'Italia è stata una partenza sempre straniera. Mentre qui siamo già a Conegliano, partenza da Conegliano a Valdobiadene, 33 chilometri di cronometro e pensate, dopo 6 chilometri dal centro cittadino di Conegliano, subito il muro di Cadelpoggio, il muro che potrebbe già determinare una prima soluzione, una prima selezione, visto che si corre contro il cronometro in questo caso. Quindi il muro di Cadelpoggio entra nel vivo, comincia ad entrare nel vivo, già prima di Natale, in attesa di maggio, in attesa della centotresima edizione di questo Giro d'Italia. Ne avevamo parlato proprio a Cadelpoggio la scorsa settimana con l'inaugurazione delle colonnine elettriche per le auto, per l'Ascotrade e allora ne avevamo parlato con Sascha Modolo e Vendrame, che sono due corridori locali. Sentiamo. Stavo per chiedervi appunto, il muro lo conoscete? Il muro lo conosciamo e purtroppo non ho avuto l'esperienza di fare il mio grande giro, però abbiamo passato in tre anni e poi due, spero che non ci sia molta gente e di passare. Beh, sicuramente perché parlano anche bene di questo Vendrame, quindi ti aspettiamo qui magari davanti a tutti per salutare casa. Ma speriamo bene, dai. Mentre Sascha, la stagione? Ma io sono... stagione, gli ultimi due da dimenticare, ho avuto problemi fisici che finalmente ho risolto, però per il mio certo per certo se ne parlerà il prossimo anno. È un ciclismo che è sempre portato ai massimi livelli e anche per quanto riguarda ti aspettavano forse un po' prima, poi hai detto tu, con qualche infortunio di meno ci sareste anche stato. Sì, ripeto, è da tre anni che lottavo con una cosa che non trovavamo... Un bandolo? Sì, non trovavamo il problema e la soluzione. L'ho trovato, però il recupero si aggirava intorno ai sei mesi, quindi ormai è andato. So anch'io che potevo fare di più, volevo fare di più, ma contro le malattie, tra virgolette, non ci fai poco o niente. Vediamo il prossimo anno. In bocca al lupo. Crepi. In bocca al lupo. Crepi in bocca. Questo modulo è Vendrame, due corridori di casa della nostra marca trevigiana, un trattamento un po' particolare, quello che è subito modulo, insomma che è stato lasciato a casa dalla sua società. Parliamo di coppe per il basket, perché questa sera nell'Eurolega tocca all'Armani Jeans Milano affrontare Fenerbahce, è una partita interessantissima. Europa League invece di calcio per le due romane, vedete Zaniolo con il suo gol Roma-Borussia di Monschengelbach, 1-1, mentre purtroppo la Lazio, al termine di una gran bella partita a Glasgow contro i Celtic, ha perso sul finale per 2-1. Per quanto riguarda la Serie A, si ricomincia, la settimana va spezzatino, come si suol dire, questa sera inizia Verona, Verona contro Sassuolo. In Serie B le Venete friulane stanno andando bene, Chievo 13 punti, Venezia 12, Pordenone 11 e Cittadella in attesa di ricostruire e di ritornare in alto. E proprio per il Cittadella l'appuntamento sarà a Udine contro il Pordenone nella giornata di domani, così pure Cosenza-Chievo e Crotone-Venezia, mentre oggi la B inizia con Ascoli-Entella alle ore 21. Nella Serie B femminile, sempre per il calcio, Permac Vittorio Veneto capolista, tende di riprendere il campionato dopo la pausa e lo farà domenica al Barison di Vittorio Veneto contro Perugia. Girone B, invece, della Serie C con il Padova, che vedete in questa foto, sempre in testa la classifica, mantiene un punto di vantaggio sull'Anerossi-Vicenza. Ieri ci sono state delle gare, la Triestina ha vinto in trasferta per 3-0 a Fermo contro la Fermana, mentre nel derby tra Carpi e Modena, che molti avevano detto era un po' l'ultima panchina forse per Zironelli, la formazione di Zironelli la spunta, probabilmente salva la panchina perché vince per 1-0 a Carpi. La Serie D con il Monte Belluna, che anticiperà domani, sabato, la sua gara di campionato contro i Veronesi del Vigasio, trasferta per gli uomini di Bodo. Si giocheranno poi tutte le altre gare nel weekend per presentare così al meglio l'infrasettimanale del 30 ottobre che il Monte Belluna giocherà in casa con il Delta Porto Tolle. L'eccellenza, stiamo su due fasi, quello del, siamo su due staffe, diciamo così, nel girone A Giorgione in testa con il campionato che si presenta molto molto bene, nel girone B Porto Gruaro leggermente in testa dopo il pari contro il Montello, ma sembra che la lotta sia tutta tra Porto Mansuet, Porto Gruaro e Sandonà di Piave. Intanto le nostre telecamere domenica saranno e ritorneranno al D'Agostin di Pieve di Soligo dove la formazione di Stefano Della Bella relegata nelle basse zone della classifica affronterà la Liventina di Vecchiato. Parliamo di calcio a 5 adesso e andiamo nel vicino Friuli, lo facciamo da un paio di giorni a questa parte, precisamente a Prata di Pordenone dove ci aspetta un altro giocatore del Maccan, Prata Calcio a 5. Marzio Belleboni in questo 7 a 1 ti abbiamo visto giocare a tutto campo, il fiato dove lo trovi? Questa è la voglia di vincere, di aiutare i compagni e dopo di che è una passione per me, io metto tutto in campo, come posso aiutare i miei compagni faccio di tutto, vieni da dentro da me questo. Ma non è solo da te, perché abbiamo visto che i tuoi compagni non mollano una palla, non dicono che non è finita finché non è suonata la campana, questa voglia di vincere arriva da cosa? E questa è la caratteristica della nostra squadra, di non mollare, di pensare a vincere, di fare bene, di ogni partita, cercare di prendere i tre punti, è così. Senti, vi aspettano tre partite difficili, difficili sia per voi, ma a questo punto anche gli avversari cominciano a guardarvi in modo impegnativo. Certo, sicuro, è una partita difficile, certamente, però anche loro guardano noi come una partita difficile, però andiamo lì, è 5 contro 5, e noi speriamo che quel 5 contro 5 porti a casa sempre i tre punti. Speriamo, va bene. 5 contro 5, perché è il calcio a 5, naturalmente. In serie A2 femminile, invece, adesso siamo sul basket, dopo aver salutato Bebba Bagnara che è incinta e quindi ha dovuto abbandonare Ponzano, il Ponzano basket, bene, il Ponzano ha accasato e dà il suo welcome, il suo benvenuto a Rozica, a Janskic, vedete, guardia croata, classe 94, che prenderà il posto, appunto, lasciato libero dalla maternità di Benedetta Bagnara. Sarà, forse, in campo già domani, per quanto riguarda l'incontro, che è un derby, in casa al Palacicogna contro San Martino di Lupari. In serie B, maschile, la Rucker Sanve, centra il pocherissimo, andando a vincere a Mestre contro l'ex Volpato e adesso va alla sesta gara, sarà una gara interna, si prevede il tutto esaurito, il sold out, al Palacistem di Saccon, di San Vendemiano. Parliamo di Imoco Volley Conegliano, perché oggi pomeriggio, tra l'altro, in tarda serata, forse sapremo già l'accoppiamento della Champions, quindi avremo già un quadro ben distinto di quello che avevamo già accennato l'altro giorno con l'intervista ad Indre Sorokaite, che alla nostra domanda di quali squadre preferirebbe incontrare, ha detto, vanno bene tutte, l'unica cosa sarebbe avere delle trasferte non lunghissime, non impegnative, non faticose. E questo, ci auguriamo che possa avvenire dall'urna. Intanto, domenica, ore 17, Palaverde, contro Pomi, Casal Maggiore. Nella A3 di Pallavolo maschile in campo, e finalmente c'è il saluto del pubblico di Motta di Livenza, la propria squadra, la Cattiverre, che giocherà contro Bolzano. Vi ricordo che Motta non perde da ben dieci mesi filati. Complimenti. Il Pro 14 adesso con il rugby, con il Benetton che sta lavorando, ha lavorato in questa settimana sui campi della Ghirada, un saluto, lo abbiamo mandato ieri all'infortunato Derek Appia, per lui c'è stata la rottura del tendine di Achille, probabilmente con molta probabilità stagione finita per il giovane che stava ben impressionando la formazione appunto di Crowley. si gioca domani pomeriggio ore 16 contro la prima squadra eccolo qui Derek Appia si gioca contro la prima squadra della franchigia sudafricana che arriva in Italia e sono i Kings. Andiamo a sentire Tiziano Pasquali che è uno degli azzurri ritornato tra i primi appunto a Treviso e che si è già messo a disposizione della squadra. Ancora però non sappiamo se giocherà o meno. Sentiamolo. Allora con Pasquali intanto bentornato dal Giappone bentornato qui a Casa Benetton tutto a posto fisicamente come stiamo? No no alla grande alla grande ecco quindi niente abbiamo fatto questo questa bellissima esperienza e adesso c'è tanta volontà di tornare qua al club e niente portare a termine un obiettivo che è quello di migliorare l'anno scorso. Prima del club parlavamo in privato dicevamo sei stato un po' sfortunato perché esordio ai mondiali e subito un infortunio che ti ha tenuto lontano e fuori per due settimane. Sì dai un po' sfortunato però ecco è uno sport a fine di contatto e sono cose che succedono e sono stato un po' sfortunato e niente per fortuna adesso sto benissimo e pronto per ritornare qua al club. Hai seguito dal Giappone le vicissitudini dei tuoi compagni? Assolutamente sì quando potevamo con la differenza di orario non era sempre facile ma quando potevamo seguivamo le partite tutti insieme è stata una bella prestazione quella di Ospres anche un po' sofferta ma peccato peccato però è come è bello rivedere il gruppo tante facce nuove tanti giovani e niente c'è tanto entusiasmo. mai adesso vedremo le decisioni dell'allenatore ovviamente non ho avuto tantissimo minutaggio io col mondiale quindi diciamo sono tra i più freschi ci sono altri ragazzi che hanno una sosta un po' più lunga ma ecco noi siamo pronti a scendere in campo è un Benetton che deve ritrovare come dicevi te deve ritrovare questo gruppo che non è mai mancato ci sono i nuovi ci sono i permit mi pare che si lavori lea ancora ma guarda qua abbiamo un bellissimo gruppo e ecco sì ovviamente una gran parte della squadra mancava ma vedendo anche i giovani che sono scesi in campo e hanno giocato hanno fatto bellissime prestazioni nessuno che si è tirato mai indietro e niente adesso noi siamo noi che ci dobbiamo adattare a loro quindi noi dobbiamo entrare nel gruppo e niente dare il meglio di noi stessi e adesso vedremo dalle scelte dell'allenatore e speriamo di sì c'è tanta voglia Tiziano Vasquali con tanta voglia di scendere in campo vedremo le scelte di Crowley per quanto riguarda invece questo giocatore Marco Lazzaroni purtroppo per lui sono state combinate tre settimane di squalifica salterà quindi la partita di domani quella con i Kings poi salterà la partita con Edimburgo e la partita con gli Scarlets Mondiale di Rugby domenica si torna in campo per quanto riguarda le semifinali Sudafrica Galles e Nuova Zelanda Inghilterra è tutto per questo nostro appuntamento del venerdì che precede il weekend noi ci risentiamo lunedì quando vi racconteremo tutto quello che sarà successo e di cui avremo testimoniato a tutti voi buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.